E da che dovevamo fare uno scherzo telefonico è nata l'idea di fare il manicomio Cioè come se noi chiamassi, cioè ci fosse uno nel manicomio come se esistessero ancora Che a un certo punto iniziasse a fare delle telefonate a caso E ci fosse poi il dottorino che cerca di chiedere scusa Di chiedere scusa e salvare la situazione Non so come l'abbia montata Wender, la sentiamo Prima puntata, vai Lo Zati 105 presenta Dottore mi sono cagato addosso Buono, me lo dai da mangiare Il manicomio E non siamo pazzi Il manicomio Tu sei pazzo Sono massimo decimo peridio Il manicomio Buonasera Pronto, c'ho una Volvo che va a urina Ce l'ha la piscia Pronto Sì C'ho la Volvo che va a urina Due litri Se voglio due litri Di cosa La Volvo che va a urina Capito Non ti cura Pronto Il negozio di buoni Il negozio di menoteca Sì C'ho la Volvo che va a urina La Volvo che va a urina La Volvo che va a urina Le mangiare Non ti cura di viaggire Ma non ti cura di più La Volvo che va a urina Il negozio di menoteca La Volvo che va a urina Hai capito? qualcuno e stanno chiamando, calma, chi è che ha chiamato questo signore, chi è lei scusi? guardi mi scusi sono il dottore Picchiarello mi scusi se non c'è qualcosa ma ogni tanto dammi, scusi un attimo, dammi il telefono dammi il telefono dammi il telefono dammi il telefono è mio è mio pronto il mare è mio tenoteca? pronto mi scusi sono il medico di prima volevo scusarmi per la chiamata di prima scusi noi abbiamo i pazienti e devono imparare scusi un attimo dai dai la pazia c'è fernando qua chiedi scusa al signor Emanuele chiedi scusa Emanuele Filiberto scusi tantissimo sono dispiaciuto anche se le ho rotto il culo di merda le ho rotto il culo chiedi scusa signore pronto mi scusi lei è lo zio che mi toccava da piccolo basta per favore le chiedo scusa se ho mortificato non chiameremo più adesso io chiudo la linea e dai salto la merda salto la merda ecco che c'è l'altro vieni qua salto la merda lancia 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 qui Michele basta ti mangi i capelli basta per favore vado I mani camion pronto? pronto salve chi è lei scusi? e io sono Eros Ramazzotti e io sono Belen notte che bel piacere ma lei sarebbe interessata ad avere un incontro con me? ma neanche per idea ma perchè no ma io ho guardi che ho delle ditina molto piccole grassocce che si infilano molto bene nella b***a fanno un simpatico delle picchi in culo ma io lo voglio infilare nel tuo di b***o Belen per favore sei il mio sogno erotico ma che scherzo è? ma che cazzo di scherzo? ma dovevamo imbarcarlo come andrà a finire? tu sei pazzo! presto nello zodi 105 sono massimo decimo peridio i mani camion ma il problema è che eravamo normali e quello cioè tu metti i cinquantenni in una stanza un telefono e un microfono e questo è venuto fuori